...o diciamo affiancato al dinamico, come destinazione Presidente, riconosco nella destinazione con una destinazione eccellente per loro giochi, quindi questo è un dato importante. Siccome io mi sono imponesta in un percorso, pari obiettivi, scusa, ma tra l'altro tutto l'intervento che ho ascoltato è del Presidente, tra l'altro Puccia, è l'unico che ho sentito perché ho potuto collegarmi, quindi il suo l'ho sentito, ma volevo dirvi una notizia che dicevo anche molto interessante perché io di cose mi vedete tantissime e io voglio darvi rispunti diversi. Proprio due giorni fa in Commissione del Turismo e in termini di connessione Stato-Regione sono stati verificati un decreto importante che andrà a beneficiare il Sintimesco e di conseguenza Regione Lombardia che ne ha di Cianone e quindi complimenti da comune città etica, strano delle risorse energetiche, direi molto importanti per lo sviluppo dello stesso.